nasce la nuova web serie di io mi chiamo italia quattro studenti della cattolica quattro sfide da vincere nel sociale oggi incontriamo federico sono a capriago in piazza zanti perché devo proporre una cosa molto importante a mio cugino giovanni eccolo nome sono federico franzoni ho anni vengo da capriago in provincia di reggio miglia studio economia delle imprese dei mercati in università cattolica sostenitori giugno ricevuto una borsa di studio dall'istituto giuseppe toniolo in memoria tant'è che proprio qui dietro attaccata alla schivania ho l'attestato della borsa di studio la tua sfida per extracampus riuscire a portare una classe elementare del mio paese dove ho studiato anch'io qui a milano a vedere la scala ho quattro mesi per far conoscere anche dei ragazzini dieci anni cosa significa lavorare nel teatro più importante d'italia ecco diciamo tra me la scala un po il rapporto come tra davide e golia però però ho mio cugino piccolo sarà il mio aiutante in seconda a capriago che a milano l'ho vista solo da fuori la scala quindi diciamo una prima volta per tutti grandi e piccoli perfetto allora rimane a farlo così mani moche